Allora, io ovviamente mi adeguerò a quelle che sono le decisioni, però io invece sarei favorevole. L'anno scorso l'Istituto Calvi, addirittura precedendo gli eventi, ha fatto approvare dal Consiglio di Istituto che dal prossimo anno scolastico chi si iscriverà all'Istituto Calvi utilizzerà solo i 5 giorni, il regime scolastico dei 5 giorni. E quindi io reputo che orario permettendo possa essere una soluzione che vada incontro anche alle esigenze delle famiglie, agli sportivi, all'organizzazione anche della scuola, perché gestire una scuola con questi problemi contingenti in 5 giorni per quanto riguarda il personale è sicuramente un punto, diciamo così, non è una criticità ma è un punto d'arrivo. E a livello didattico invece non potrebbero esserci delle problematiche, per esempio gli alunni che tornano a casa troppo tardi piuttosto che orari impegnativi. Allora, ci potrebbero essere due criticità. Una relativa al numero di ore, ossia al numero di ore che i ragazzi fanno a scuola. Non è un problema che tocca i licei, che tocca magari gli istituti tecnici, magari tocca altre realtà, i professionali o i licei artistici dove il numero di ore è senz'altro maggiore. Oppure può toccare marginalmente chi abita veramente distante ma se l'utenza è di prossimità penso che sia un vantaggio secondo me. E secondo lei il risparmio vale la chiusura? Io credo che per motivi organizzativi secondo me sì. Ci sono già altre scuole che sono andate verso questa tendenza e nessuno è tornato indietro. Probabilmente è una misura organizzativa che è vincente. La mia opinione è che sì, i tempi sono un po' stretti direi perché l'avvio dell'anno scolastico è previsto per lunedì e è chiaro che tutto questo significa reimpostare un attimo l'orario. Poi per l'esperienza che abbiamo avuto nel periodo del Covid, i ragazzi l'anno scorso abbiamo fatto orari scaglionati quindi un gruppo di studenti entrava più tardi per evitare assembramenti all'ingresso ma l'uscita posticipata di un'ora complicava molto il rientro a casa. Quindi molte famiglie hanno lamentato che uscire alle due è un po' problematico per l'attuale sistema dei trasporti. Fare 30 ore settimanali, il nostro orario è quello per il triennio, in 5 giorni lavorativi significherebbe fare tutti i giorni 6 ore, quindi uscite a ridosso nelle 14. È un aspetto di cui tenere conto anche per il rientro a casa dei ragazzi. Pensando al male minore, se questo implica un risparmio che sappiamo essere importante perché la stessa famiglia si rende conto... Certo, ma infatti siamo qui, aspettiamo indicazioni e poi si valuta. Dico che magari le famiglie sarebbero più propense ad accettare una soluzione simile quest'anno rispetto all'anno scorso perché siamo in situazioni estreme. Rafforzando però il sistema dei trasporti per permettere di rientrare in orario decente. Teniamo conto che in inverno, nel periodo autunnale, invernale, rientrare dopo le 15, 15.30 perché per gli studenti che non sono di Padova noi ne abbiamo diversi. Capite che arrivare dopo le 15, 15.30 è il tempo di pranzare, un'attività sportiva ed è subito sera. Allora, io sono in una scuola dove la settimana è già corta, però fondamentalmente sono assolutamente contraria perché non è una scelta di tipo didattico. Tant'è vero che l'indicazione che ho visto dagli istituti, dai licei e da altre scuole del genere prediligono l'aspetto didattico dal mio punto di vista, più corretto. È emerso che effettivamente sono in molti i dirigenti a essere contrari a questa cosa, molti anche preoccupati dal fatto che il termine delle lezioni poi implica un effetto domino che diventa impegnativo per i ragazzi ma per gli stessi professori. Assolutamente. Il fatto di impegnare i pomeriggi i ragazzi poi arrivano a casa molto tardi, non riescono più a studiare con la stessa attenzione e soprattutto dal punto di vista della ricaduta didattica è assolutamente negativo. Per quanto riguarda la scelta, secondo lei il risparmio sarebbe tale da far cambiare idea ad alcuni oppure no? Secondo me non c'è risparmio perché se i ragazzi stanno a casa devono essere scaldate le case e quindi in realtà la spesa viene divisa fra tutte le persone che non vivono nella scuola mentre se a casa i ragazzi non ci sono può darsi che il riscaldamento non venga acceso, la corrente elettrica non venga consumata. Io non sono dell'idea che ci sia un risparmio, che ci debba essere una maggiore attenzione alla coibentazione degli edifici, ai risparmi della temperatura delle caldaie, alla variazione climatica. Questo sì, questo sarebbe un vero risparmio. Non è un giorno a casa e la spesa si rivolta alle famiglie. Non so se lei ha avuto modo, visto che comunque le scuole non sono ancora effettivamente iniziate, però essendo interna, secondo lei le famiglie sono più a favore o più contrarie? Io penso che molte famiglie potrebbero essere favorevoli perché è una scelta di tipo sociale, quindi avere il ragazzo a casa il sabato ti permette di gestirti il weekend dal venerdì pomeriggio, ma non è una scelta di tutte le famiglie.